L'ultimo episodio a Barletta, un vigilante picchiato in pieno centro da un gruppo di rapinatori è entrato in azione per svaliggiare un portavalori. Delinquenza sempre più spregiudicata e pericolosa, raccontano le cronache degli ultimi assalti ai blindati avvenuti in Puglia anche nel territorio della BAT. Le guardie giurate scendono in piazza insieme alla Filcams CGL per chiedere maggiori tutele durante l'espletamento del loro servizio. Non è possibile, dicono davanti alla prefettura di Barletta a rischiare la vita ogni giorno per poi portare a casa uno stipendio da fame. Oggi la delinquenza sta veramente devastando e sta avanzando giorno per giorno sul nostro territorio. Noi alle volte affianchiamo le forze di polizia ma senza una preparazione adeguata a questo. Ma oltre alla preparazione adeguata, oggi con un contratto nazionale fermo a sette anni e che non vogliono riconoscere, siamo fermi a uno stipendio veramente da paura. Permettetemi il termine, uno stipendio da fame. Ma qua ci sono colleghi che prendono ancora 8-900 euro per svolgere il nostro servizio armato per strada. Cioè di che cosa stiamo parlando ragazzi? Cioè io questo che è quello che invito a tutte le guardie giurate di Italia di scendere in campo e ribellarsi ai propri istituti di vigilanza proprio per combattere questa nostra esigenza personale ma reale. Io non svolgo questo ruolo, non faccio il portavalori, sono GPG da 28 anni, mi occupo di fare, faccio la radiomobile praticamente alla zona. Però mi rendo conto che per alcuni colleghi che devono salire su un furgone e trasportare tutto quel denaro, se le cose possono migliorare sarebbe una gran cosa. Noi speriamo sempre nelle istituzioni che prendano coscienza di questa situazione anche perché diventa molto pericoloso a parte coloro che indossano una divisa, anche per quello che può succedere nelle immediate vigilanze, diciamo così, di questo furgone e di tutto il resto. Per tutelare la sicurezza degli operatori del comparto, dicono dal sindacato, il lavoro va riorganizzato e i vigilanti formati adeguatamente. L'asporto valori non andrebbe svolto in questa maniera. Occorrerebbero tre GPG all'interno del blindato. È una auto che dovrebbe seguire il blindato con altre due guardie giurate che dovrebbero fare un intervento di prevenzione nel caso in cui dovessero allertare o avere qualche segnale di sospetto e quindi sollecitare i ragazzi del blindato e fare un intervento di prevenzione. Se poi consideriamo che più delle volte i ragazzi non ricevono l'informazione e la formazione dovuta, quindi questi ragazzi vengono proprio lasciati a sé stanti.